buongiorno amici e ben trovati alla rassegna stampa di fano tv iniziamo insieme una nuova settimana oggi è lunedì 16 maggio 2022 il sole è sorto alle 5 40 e tramonterà alle 20 e 29 vediamo subito qual è il santo del giorno è un santo molto molto vicino a noi si tratta di santu baldo è un santo che è nato a gubbio nel 1085 nominato vescovo si impegnò moltissimo a pacificare la città che era divisa e contrastata tra le famiglie tra le fazioni avverse un giorno addirittura rischiò di morire perché si era messo in mezzo ai contendenti che lo lasciarono malconcio sul terreno poi ovviamente si pentirono perché si resero conto di quello che avevano fatto rischiando di uccidere il loro vescovo resse la città santu baldo per oltre 30 anni salvandola anche dalle minacce di distruzione che aveva proferito il barbarossa dunque santu baldo da gubbio ed ora diamo un'occhiata anche alle previsioni del tempo vediamo che i cieli si mantengono prevalentemente sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata non sono previste piogge sulle manche durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 24 gradi quindi una temperatura molto molto piacevole e vediamo poi come i giornali oggi parlano di una weekend quell'ultimo passato quello di ieri con gente con tanta tanta gente al mare quindi siamo veramente in estate anche se l'estate deve ancora cominciare ed oggi invece noi cominciamo la nostra rassegna stampa a parlare di sport perché siamo alla fine delle campionato e vediamo subito il titolo che appare sulle corriere adriatico beffa atroce per il fano ebbene era una partita decisiva quella che si è disputata ieri contro il vasto girardi che ha purtroppo raggiunto il fano che era in vantaggio alla fine della partita beffa atroce per il fano i granata raggiunti al 95esimo del vasto girardi quando avevano già la salvezza in tasca ora se la devono di nuovo riguadagnare tutto infatti è stato rinviato all'ultima giornata ma adesso sarà complicato evitare i play out sa di beffa atroce il pari subito dall'alma dal cruciale scontro diretto con il vasto girardi il quale riacciuffando l'uno a uno condanna virtualmente la squadra di catalano ai play out scrive oggi massimiliano barbadoro appunto scusate massimiliano barbadoro sul corriere adriatico così fa veramente male e la grande amarezza nel fano a fine gara avremmo ampiamente meritato la vittoria appunto dice catalano l'episodio del gol macchiato da un fallo non fischiato su carcalis ma non è certo finita qui dice il tecnico appunto della squadra granata mentre la vis invece accentua la sua attenzione sull'allenatore visse banchini si allontana il mister ancora un anno di contratto ma la sensazione è che il suo futuro non sembra più a pesaro circolano i nomi di maraia pochesci e vigica a dimostrazione che si sta per aprire una pagina nuova per i biancorossi e diamo un'occhiata anche al resto del carlino per quanto riguarda lo sport vediamo appunto che a questo riguardo appunto riguardo con la vis con banchini sarà dura trattativa lunga e difficile prevale infatti l'ipotesi dell'addio ma c'è il nodo dell'altro anno di contratto e vedremo come andrà a finire e invece per quanto riguarda il Fano si parla anche qui dell'incredibile beffa subita all'ultimo secondo adesso i play out sono quasi una certezza un risultato amaro quello dell'uno a uno tra Fano e Vasto Girardi bene chiudiamo la pagina dello sport apriamo invece quello della cronaca sul resto del carlino resto del carlino benedizione ridotta come tutti i lunedì infatti il giornale condensa tutte le notizie della regione nella pagina locale ebbene a Pesaro a Pesaro ma anche a Fano è un po' su tutta la costa è scoppiata l'estate spiagge prese d'assalto ma il comune però deve investire l'ha detto l'ex presidente degli albergatori Fabrizio Oliva che chiede più progetti per il lungomare soprattutto per viale Trieste quel lungoviale che costeggia appunto la spiaggia su tutto il litorale pesarese qui non si parla mai di turismo ha detto Oliva a Riccione Rimine si parla invece solo di quello ci ricordiamo che questa è una città di mare solo per andare a fare il bagno dice Oliva sto passando in piazzale d'annunzio vedo che hanno tolto la mochette che c'era prima forse era consumata ma non credo che sia questo il modo di concepire l'arredo insomma occorre fare molto molto di più soprattutto per attrezzare la città con non solo con gli arredi ma con qualche attrazione per indurre ancora più persone a frequentare Pesaro e la sua spiaggia e invece il sindaco si dà da fare perché lo vediamo qui in quest'altro articolo quasi fosse una risposta agli albergatori un maxi mutuo per interrare la statale è il museo delle moto entro il 2025 due grandi opere che ha ipotizzato anzi che ha programmato il sindaco Matteo Ricci infatti intende realisticamente realizzare un camminamento unico tra piazza del popolo e il mare la palla di pomodoro attraversando viale della vittoria ovvero la statale adriatica Ricci procederà in autonomia anche se non avrà le risorse degli oneri di urbanizzazione dell'ex bramante l'ex bramante infatti doveva essere trasformato in residenze uffici e parcheggi pubblici ma che cosa è accaduto è accaduto che la proprietà non è d'accordo su questa trasformazione e quindi non procederà alla trasformazione dello stabile non pagherà quindi gli oneri di urbanizzazione Ricci però ha detto non importa ci pensiamo a noi e contrarremo un mutuo l'altro grande progetto è quello del museo delle moto tutto questo dovrebbe essere realizzato entro il 2025 è un sogno che il sindaco però intende realizzare stasera inizia il tour dei cantieri e dei sogni quest'altro articolo di fondo pagina del resto del carlino il sindaco ha dato appuntamento ai cittadini alle 20.45 a Rocca Costanza per camminare in centro storico e vedere le nuove opere non è la prima volta che il sindaco di pesaro organizza queste iniziative si pone a capo di un gruppetto di cittadini chiunque può partecipare e gira per la città illustrando i suoi intendimenti i suoi programmi le opere realizzate ebbene un percorso che inizierà appunto alle 20.45 a Rocca Costanza per arrivare all'ex pescheria passando attraverso piazzale Matteotti via San Francesco ovviamente la piazza poi piazza Olivieri via Passeri via Mazza viale dei Partigiani viale Trieste e il Porto gli Ortigiuli e corso 11 settembre per un totale di una passeggiata di circa 5 chilometri o anzi oltre 5 chilometri 5 chilometri e 200 metri insomma una bella passeggiata comunque in un nucleo urbano che in realtà è un museo all'aperto il tour dei cantieri e dei sogni e veniamo alla cronaca veniamo alla cronaca e vediamo come c'è stato un salvamento di un bagnante in difficoltà ieri l'acqua è ancora molto fredda e quindi qualcuno che si spinge a largo può trovarsi in difficoltà come quest'uomo che è stato salvato in extremis era quasi già in ipotermia da un uomo che era sul gommone sembrava che volesse lasciarsi andare non mi rispondeva ha dichiarato Andrea Roberti 48 anni dipendente del comune dell'ufficio nagrafe campione di arti marziali e perfetto nuotatore era stato avvisato a che c'era un uomo in difficoltà quindi con la sua imbarcazione si è diretto a largo dove annaspava questo bagnante un po' così diciamo così improvvido e non voleva non voleva farsi i sale insomma era quasi diventato in catalessi non rispondeva più per fortuna è riuscito a prendergli un polso e aissarlo appunto sulla imbarcazione Andrea Roberti non ha avuto esitazione a questo riguardo nel tentativo il tutto per tutto per vincere le resistenze dell'uomo e qui addirittura vediamo delle fotografie nel lato del salvataggio urla nella notte in via Castelfidardo una coppia due giovani 28 anni lei e 35 lui stavano rotolando in via Castelfidardo addirittura perché ubriachi e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti i vicini hanno chiamato appunto le forze dell'ordine hanno chiamato anche il 118 ma nel 118 quando è andato poi al pronto soccorso l'uomo è andato in escandescenze ha minacciato ha inveito contro i carabinieri e contro gli infermieri insultando appunto le forze dell'ordine minacciando i sanitari chissà perché era in preda ovviamente ad effetti psicopici e c'è stato un parapiglia affinché l'uomo non è stato arrestato per resistenza e minacce a pubblico ufficiale veniamo anche per quanto riguarda Fano Fano parcheggio selvaggio a Larzilla riecco il solito film ebbene è cominciata la stagione balneare e subito le spiagge sono state prese d'assalto per quanto riguarda Larzilla l'unico posto dove parcheggiare la macchina è quello nel sottoponte appunto che attraversa la statale però questo intasa la viabilità per cui non può passare nemmeno un'ambulanza se fosse la necessità di intervenire per un pronto soccorso e quindi siamo alle solite riecco il solito film auto bici e moto in sosta lungo la pista ciclabile e sotto il ponte ferroviario questo per quanto riguarda la pagina del resto delle Carlino oggi e quindi diamo un'occhiata ora al corriere adriatico abbiamo visto lo sport ora vediamo la pagina di Fano dove vediamo una dichiarazione dell'assessore regionale Stefano Aguzzi il quale interviene sullo stato della provincia di Pesaro per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti e la definisce la provincia più problematica rispetto alle altre province marchigiane perché c'è confusione c'è confusione le linee di indirizzo della regione Marche e quella di realizzare una sola discarica un solo biodigestore un solo impianto di MTB di trasformazione appunto dei rifiuti per provincia Pesaro invece ne ha in quantità in animo di realizzare 3-4 biodigestori ha 3 discari che insomma non si riesce a mettere ordine e di chi è la colpa? secondo Aguzzi la colpa del Partito Democratico per quanto riguarda queste divisioni interne per quanto riguarda la lotta tra ASET e Marche Multiservizi che si poteva giustificare vent'anni fa quando c'era veramente il proposito consolidato affermato di Marche Multiservizi di fagogitare l'ASET ora secondo Aguzzi le condizioni sono diverse e quindi non si giustifica più questo dualismo biodigestore e discarica l'assessore regionale Aguzzi contrasto giustificabile vent'anni fa non oggi la colpa è tutta del PD e punta agli occhi anche su Minardi per il quale considera una diversità di comportamento perché prima era difensore di Marche Multiservizi ora invece tutto contrario insomma un atteggiamento ondivago ebbene lasciamo queste diatribe di carattere politico invece voglio informarvi su un incontro un incontro che io considero importante perché oggi alle 18 nella sala della Concordia del Palazzo Comunale di Fano ci sarà la presentazione di un libro, di un libro particolare scritto da padre Giancarlo Mandolini che è il rettore del convento di Santa Maria Nuova ebbene padre Mandolini ha scritto un libro su un periodo importante della città di Fano lo ha analizzato in maniera molto molto puntuale, in maniera analitica quello caratterizzato dalla pandemia, dal terremoto, dalla ristrutturazione del convento di Santa Maria Nuova e dalla scoperta del corpo del beato Antonio da Fano e a quest'ultimo episodio poi, per quest'ultimo episodio riporta poi tutte le vicende della scoperta del trasferimento del corpo, delle analisi mediche anatomiche che sono state fatte sulla mummia e sulle prospettive di un suo ritorno a Fano il libro poi sarà consegnato gratuitamente a tutti gli intervenuti quindi segnatevi questo appuntamento alle 18 nella Sala della Concordia del Comune di Fano lo vediamo qui in questa fotonotizia città da giocare, Centinerola ha fatto il pieno ieri la città di giocare si è trasferita da Poderino di domenica scorsa nel parco di via Monfalcone a Centinerola così ravvivando un po' tutto il quartiere tantissimi bambini, tantissime le mamme che si sono presentate a questa bella iniziativa caratterizzata dai giochi proposti dall'ASET giochi didattici ovviamente ma anche dall'Avis c'è stata una bella dimostrazione dell'associazione Amici di Zampa una merenda offerta dall'associazione Viviamo Centinerola e poi una bellissima passeggiata lungo la via dei Pozzetti dove nelle viscere della terra ancora esiste l'antico acquedotto romano giriamo pagina e vediamo non una bella notizia devo dire la verità perché vediamo che l'ASET aumenta la Tari la tassa rifiuti del 5,6% in cinque comuni e tra questi c'è anche Fano c'è Fano, San Costanzo, Colli al Metauro, Monteporzio e Mondavio ebbene l'ASET ha deciso di investire di fare ancora qualcosa di meglio e ovviamente deve trarre delle risorse e quindi aumenta la bolletta servizi di igiene ambientale più moderni ecco questo è un po' il proposito dell'azienda Reginelli, presidente dell'ASET dice porta a porta anche nelle imprese e quindi non solo nelle case, nelle famiglie ASET estenderà, potenzierà e ammodernerà alcuni servizi dell'igiene ambientale appunto in cinque comuni e quindi ancora qualche soldino in più da prelevare ai fanesi e agli altri cittadini per quanto riguarda terre roveresche infatti però vediamo che c'è un impegno del sindaco terre roveresche è in preda alla situazione elettorale quindi ci sono iniziative di carattere elettorale e ieri c'è stato un incontro di presentazione nella sala consigliare di Orciano della lista Uniti per unire terre roveresche che alle elezioni amministrative del 12 giugno prossimo ricandida il sindaco attuale Antonio Sebastianelli qui ci sono appunto le previsioni programmatiche quello che intende fare appunto il sindaco insieme dobbiamo ricostruire il territorio del post pandemia il programma appunto che viene evidenziato in questo articolo e ancora vediamo abbiamo finito la pagina dell'entroterra e quindi apriamo quella di Pesaro sul Corriere Adriatico e vediamo come qui si parla veramente dell'arrivo dell'estate il debutto della stagione sbatte contro lo scoglio della movida fracassona è bello che ritorna all'estate ma è brutto insomma che ci siano anche gli aspetti deteriori di questa stagione perché è una stagione rumorosa una stagione vivace una stagione dove appunto si cerca di divertire e fare un po' di chiasso insomma rientra in questo ordine di idee movida chiassoza e alcolica sul lungomare e prima che la stagione entri nel vivo gli operatori ovvero dagli albergatori ai bagnini vogliono verificare con il comune se sia possibile una stretta per contenere gli eccessi soprattutto nelle zone centrali di Viale Trieste per questo l'amministrazione comunale pare sia pronta ad ascoltare le istanze che arrivano da più parti e che chiedono di rivedere l'ordinanza che regolamenta e limita l'orario della musica diffusa appunto nel tratto centrale di Viale Trieste occorre un po' contenere questa eccessiva libertà di fare chiasso per contemperare le esigenze di chi vuole divertirsi e di chi vuole riposare perché vacanze relaxe vuol dire anche riposo in tranquillità ebbè è la solita dicotomia che si ripropone un po' in tutte le estate sì all'opera di Vangi aspettando la soprintendenza una bellissima scultura di un grande scultore quello di Giuliano Vangi in piazzale Matteotti sarà posizionata in piazzale Matteotti per i 140 anni per festeggiare i 140 anni delle autoline Bucci una scultura alta 7 metri pensate in piazzale Matteotti l'ex piazzale della stazione delle Corriere del peso di 9 quintali firmata dal maestro Vangi sarà un segno di libertà da mesi si parla appunto dell'ipotesi di collocare quest'opera in questo punto significativo della città di Fano un punto molto trafficato tanto che c'erano anche stati sopralluoghi dei tecnici comunali ora invece arriva l'ufficialità della presa della decisione una delibera approvata dalla Giunta la scultura donata dalle autoline Bucci in occasione appunto dei 140 anni di attività nel trasporto pubblico è stata commissionata al maestro Giuliano Vangi si tratta dell'Uomo e Gabbiani questo è il titolo dell'opera che verrà collocata nella Iuola di piazzale Matteotti lungo l'asse di via Cialdini via San Francesco lì c'è anche una fontana che introduce appunto in via San Francesco una delle vie più antiche di Fano era l'ingresso della città nei tempi antichi che conduce direttamente in piazza del popolo grida e sangue in centro nella notte per una coppia con le allucinazioni e quanto avvenuto ieri in via Castelfidardo anzi ieri notte perché erano le 2.30 quando appunto i residenti svegliati di soprassalto dalle urla di queste due persone abbiamo visto come un lui e una lei erano veramente in preda ai fumi dell'alcol forse anche di qualcos'altro e quindi hanno chiamato i carabinieri 118 e via dicendo e poi vediamo che a Vallefoglia in moto senza barriere un giorno speciale per tutti si tratta di un progetto per disabili a cura della terra piloti e motori l'idea di Biancani e Verri il vice presidente del consiglio regionale pensa a un servizio di turismo accessibile e a Urbino si parla si parla di una vicenda che in realtà è di Piobbico di Piobbico perché c'è un problema sorto tra un agriturismo e una cava la cava di Gorgo a Cerbara ci sono interessi difficili da contemporare se non impossibili da conciliare che finiscono in vertenze ed esposti ebbene uno di questi è la convivenza tra una cava ed un agriturismo purtroppo lo sanno bene i fratelli Massimo e Andrea Bondi proprietari della Caprareccia Piobbico la Caprareccia è appunto l'agriturismo che si trova vicino all'ansa rocciosa del fiume Candigliano quello che sovrasta la balza della Taddea e qui c'è anche la cava una cava che solleva una nuvola di polvere e quindi non si addice ad un paesaggio sereno tranquillo trasparente come quello che dovrebbe fare la cornice ad un agriturismo e qui appunto il problema un autore a palazzo Bottacin svela Giusto Di Gand Giusto Di Gand è l'autore e l'artista di uno dei più celebri quadri costuditi a palazzo Ducale la comunione degli apostoli ricerche rivelazioni e scoperte sulla tavola ed è sempre interessante capire dopo analisi dopo ricerche dopo la scoperta dei significati che cosa ha voluto esprimere il pittore dipingendo una tela non solo delle figure non solo la rappresentazione di un atto ma dentro ci sono verità nascoste segreti che un acuto ricercatore sa porre in evidenza e poi a questo punto non abbiamo più altro da riferire perché i giornali essendo stata la domenica sono usciti un po' con qualche scarsità di notizie per cui non mi rimane che salutarvi darvi appuntamento a domani alle ore 7 intanto per le notizie del giorno vi do appuntamento alle ore 20 30 per occhio alla notizia il TG di Fano TV e questo è tutto per il momento Massimo Foghetti vi saluta appunto e vi augura una buona giornata a risentirci